Cinque colpi d'arma da fuoco esplosi davanti alla sara cinesca di un'officina, di un gommista. Siamo a Cavallino, siamo nella centralissima via Miglietta che conduce alla piazza del paese, alla piazza Sigismondo Castromediano. L'episodio è ancora avvolto nel mistero, i carabinieri stanno indagando a fondo per capire cosa sia accaduto, chi abbia sparato. L'episodio è avvenuto in piena notte. Solo alla riapertura dell'officina, lunedì mattina, i titolari si sono accorti che la sara cinesca era stata oggetta di alcuni colpi d'arma da fuoco, cinque per l'esattezza, così come hanno accertato i carabinieri della localizzazione che ora stanno tentando di far luce su quanto accaduto. I militari preferiscono mantenere il massimo riservo in attesa di avere elementi utili prima di poter espimere qualunque tipo di valutazione. Ignoto al momento il movente e l'identikit del o dei possibili malviventi che a quanto pare hanno potuto agire indisturbati. Si è trattato di un raid in piena regola. Con ogni probabilità ad esplodere i colpi sarebbe stato solo un individuo, almeno così si evince dalle immagini delle telecamere della zona. Padre e figlio che gestiscono la storica officina hanno riferito ai carabinieri di non aver mai ricevuto minacce. Nessuna allarme per il momento in città, anche se è alta l'attenzione per un episodio che resta preoccupante.